Le Marche sono la quinta regione in Italia per numero di decessi e di pazienti positivi al virus e la sesta per ricoveri in ospedali in terapia intensiva e quanto emerge dall'elaborazione dei dati del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Non calano i decessi che arrivano attualmente a 574 di cui 17 odierni, età media 79 anni con il 94% di patologie pregresse. Il più giovane aveva 64 anni ed era residente a Pesaro mentre il più anziano aveva 97 anni di Senigallia. In provincia di Pesaro Urbino da inizio epidemia risultano 331 vittime di coronavirus. Su 735 campioni analizzati sono 132 i positivi nelle ultime 24 ore nelle Marche. I dati sono stati resi noti dal Gores. Complessivamente sono arrivati a 4.230 i casi positivi su 13.678 test effettuati da inizio emergenza. I positivi nella provincia di Pesaro Urbino sono 1.786. I ricoveri in terapia intensiva risultano 158, in semi intensiva 295, mentre nei reparti non intensivi 533. 154 invece indegenze postcritiche. Aumentano i casi di contatto in isolamento domiciliare. Attualmente sono 6.960 di cui in provincia 1.899 asintomatici e 1.021 presentano sintomi. 874 operatori sanitari. I dimessi risultano 232, di cui 42 guariti dal virus dopo il doppio tampone risultato negativo. Continuano gli studi sul Covid-19. L'Organizzazione Mondiale della Sanità potrebbe rivedere le sue raccomandazioni sull'uso delle mascherine, secondo cui, alla luce dei risultati di un nuovo studio, le goccioline emesse con un colpo di tosse e uno starnuto possono viaggiare nell'aria per distanze ben più ampie. Secondo il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, non ci sono al momento evidenze che il nuovo coronavirus circoli nell'aria. Le ricerche scientifiche indicano che le principali vie di diffusione del virus sono quelle per dopplette e per contatto. Resta aperto il dibattito sull'argomento, in quanto il virus è stato trovato in campioni d'aria, raccolti a oltre 1,8 metri di distanza tra due pazienti.